Musica Ragazzi Siamo tornati su Melo Fur Assunto Squad 2 Questa è la parte cruciale Stanno arrivando i nemici In grandi In numeri Si può dire, non lo so Arriveranno in In monti arriveranno E dobbiamo essere Assolutamente pronti Beh, io direi che in questo caso Lo siamo Perché Tutti gli uomini sono in posizione Pronti a mirare Pronti ad uccidere Pronti a difendere Una propria patria Signori Nassanto è iniziato Stanno arrivando Ripeto, stanno arrivando Non possiamo Non possiamo Eh no, purtroppo no Va bene Comunque ragazzi Stanno arrivando Arrivano i nemici Arrivano i numerosi Dobbiamo portare il canone Un po' più avanti E anche il carri armato A questo punto Li chiediamone un altro In questa posizione Questi due uomini Cioè questa è una squadra Un po' più avanti Ok, stiamo avanzando Attenzione Attenzione I nostri I nostri I nostri rinforzi Qua non avevo proprio visti Stiamo tenendo Molto bene Stiamo tenendo Molto bene Mi chiediamo Un'altra Panteria Anticard Perché La squadra Andrà qui E però devi sparare Fratermo Ok, bene Bene, bene Va bene Ora facciamo una cosa Tu vai qui Così dà un contributo Ancora maggiore Voi quattro Li mettete qui Bene 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 Voi tre Quanti Tutti metti un po' Pinguà Sta andando in avanti Eh C'erano Messa camera Ah, pensavo che Aveva bisogno Di una mano Vabbè Riscendiamo Messa Questo aiuto È molto importante Secondo me Ah, ci sono molte cose Sì, prendi tutto Ma queste sono Cose russe Se non sbaglio Vabbè Vabbè Non ci pensiamo È finito la munizione Ok, torna qui Ok, torna qui Torna indietro Ok Arrivano Adesso arriva Un ben po' Di fanteria Per darci Un po' Più fastidio E adesso Arriva Oddio Ci distruggiamo Quello Se lo distruggiamo Se lo distruggiamo Facciamo Una strage L'avamo detto Una strage Abbiamo fatto Eh, vedete Ecco fatto Stiamo Ma ricaricati Almeno Ho capito che Ok Mancano Cinque minuti E avremmo Quasi vinto Dico quasi Perché non so Dopo cosa ci aspetta Cioè Potrebbe anche Per finire la missione Ok I rinforzi stanno arrivando Sono su una strada Dobbiamo Dobbiamo mantenere La posizione Difendere questa posizione A tutti i costi Ed è adesso Che arriva Il nemico Ok Abbiamo bisogno Di Dei cannoni Questa volta Adesso dobbiamo fare Veramente Ci stanno Assaltando Ok È arrivato È arrivato Oh mio Dio Dove esiste Prendiamo Antria Infanteria Anticarro Oddio Oh no No Non sapevo Vemmo dove vai Sei tu Distruggino Distruggetelo Fatelo a pezzi Vemmo qui indietro Chi siete voi Chi siete Cosa fate Ma Dove non le doveste andare Qui Ma Non ti uomini sono senza munizione Andate avanti Prendeteli dai compi Non lo so Mancano due minuti Attenzione Attenzione Ok Ok Stiamo andando E E Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Bene, manca poco, manca veramente poco 50 secondi, signori Solo quello Manca poco Ok, infatti sono qui Uno dovrebbe arrivare Quello è piuttosto, forse Eccomi qua, signori Ok, l'abbiamo riparato Ecco gli rinforzi, ecco gli rinforzi Molto bene, abbiamo difeso il quartiere generale Ah, una canzone della vittoria Molto bene, signori Abbiamo vinto Molto bene ragazzi Abbiamo vinto questa battaglia Vi ringrazio per aver visto questo video Se avete piaciuto mettete un mi piace Abbiamo perso solo 24 uomini E quattro veicolamente Gli inglesi hanno perso Molti più uomini Molti più uomini Grazie per aver visto questo video In caso vi è piaciuto mettete un mi piace Commentate e condividete E noi ci vediamo sul prossimo video Ciao ragazzi